Grazie Antonio, buongiorno. Le sagge parole dei vericeliani mi hanno fatto ricordare un episodio a proposito dell'argomento che sono chiamato a trattare, un episodio che accade 15-20 anni fa. Una multinazionale inglese era interessata ad acquistare un'azienda in Italia, un'azienda che poi negli anni ha dato degli eccellenti frutti e mi incaricò di elaborare un progetto per l'acquisizione e il direttore finanziario mi disse noi vorremmo fare l'intervento, l'acquisizione, costituendo una società veicolo, finanziandola attraverso un'operazione di leverage buyout. Io feci tutto lo studio, dopo un po' di tempo glielo consegnai, lo consultò e mi disse guardi non facciamo l'operazione. E gli disse ma perché? Pensa che non sia un'operazione economicamente conveniente? Dice no no, sono convinto che è un'eccellente operazione. Però lei mi ha detto alcune cose. Mi ha detto che se acquisiamo l'azienda attraverso un procedimento di leverage buyout probabilmente rischiamo un procedimento penale. E in quegli anni ci sono stati alcuni procedimenti penali perché il leverage buyout si riteneva che violasse alcune disposizioni a partire dal diritto di assistenza finanziaria di cui è il 2358 del Codice Civile. Successivamente la norma è stata modificata ed è stato introdotto un apposito articolo per l'operazione di leverage buyout che è il 2501 bis. Poi gli dissi guardi che lei rischia che l'operazione sia considerata elusiva e in effetti qualche anno dopo c'è stata una pronuncia della Cassazione che ha ritenuto abusivo il leverage buyout. Poi lei rischia che se ne va bene il procedimento penale se ne va bene che non contestano l'illusione dell'operazione o vince in commissione rischia che indipendentemente da tutto ciò siano ritenuti indeducibili gli interessi che la società acquirente paga per difetto di inerenza e in effetti è quello che poi è sistematicamente successo. Le prime due questioni sono state risolte l'ultima è pendente e credo che la soluzione prima o poi andrà trovata. Quindi io capisco i motivi per i quali l'investimento non fu fatto e poi la società operava anche in un regime di concessione per cui alle incertezze che io avevo rappresentato si aggiungevano incertezze di natura extratributaria insomma fatto sta che quella multinazionale andò a investire in Turchia non so se gli è andata meglio visto le ultime vicende però un po' di anni sono passati probabilmente l'investimento è stato ampiamente recuperato. Ecco, questo è un esempio di ciò che la legislazione non dovrebbe consentire proprio al fine di attrarre gli investimenti e ciò che è essenziale per tutto quello che Vieri Ceriani ha poco fa rappresentato è essenziale che vi sia certezza del diritto. Quindi credo che tra i vari provvedimenti tutto importanti un certo rilievo lo abbia almeno per le aziende di maggiore dimensione la norma sull'abuso del diritto che tra l'altro entra in vigore oggi quindi insomma credo che in qualche maniera vada affrontata anche per celebrarla. Allora noi in passato abbiamo avuto possiamo individuare tre fasi ecco, prima del 90 non esisteva alcuna clausola antielusiva se non assolutamente specifica o implicitamente elusiva e non si riteneva applicabile non si riteneva esistente il principio in quanto non espressamente previsto dalla legislazione non si riteneva applicabile ai fini fiscali l'articolo 1344 del codice civile in tema di negozio in frode alla legge tant'è che la prima sentenza che si occupa di elusione fiscale è pronunciata dalla Cassazione nel 1979 e riguarda l'imposta di registro l'arbitraggio tra imposta di registro e in posta sulle donazioni all'epoca l'imposta sulle donazioni era molto elevata e allora i padri donavano ai figli bot che non erano tassati affinché i figli con il ricavato dei bot potevano comprare l'immobile dal padre pagare l'imposta di registro che era notevolmente inferiore all'imposta di donazione qui si pronunciò la Cassazione che applicando la norma la prima norma antielusiva che il nostro ordinamento debuttario conosce e cioè l'articolo 20 della legge sull'imposta di registro disse beh qui bisogna guardare l'effetto prodotto da questa combinazione di atti e quindi l'atto va tassato non con l'imposta di registro ma con la più onerosa imposta sulla donazione la sentenza ricordo fu commentata positivamente sul sole 24 ore da Antonio Tommassini che dimostra almeno 10-15 anni di meno ma avendone 82 all'epoca già commentava le sentenze della corte di Cassazione poi abbiamo avuto un periodo tra il 90 e il 2008 in cui è stata presente la clausola antielusiva la prima fu l'articolo 10 della legge 408 applicabile dal 30 ottobre del 90 che poi è diventato il più recente articolo 37 bis del DPR 600 e in questo periodo era ritenuto elusivo ciò che o meglio quelle operazioni che rientravano nelle fattispecie trassativamente elencate dall'articolo 37 bis a condizione che si verificassero i presupposti previsti da tale norma successivamente dal 2006 ma soprattutto dal 2008 fino ad oggi la giurisprudenza della corte di Cassazione ha elaborato una nozione di abuso del diritto ritenendola inizialmente con una sentenza del 2006 fondata ancorata ai principi comunitari e ciò fermò anche relativamente attributi diversi dall'IVA quindi attributi che non hanno matrice comunitaria quindi come dire con un'elaborazione che probabilmente mostrava qualche punto debole tant'è che con sentenze gemelle del 2008 ha rettificato il tiro e ha si affermato che l'abuso del diritto era immanente dell'ordinamento tributario ma che traeva origine dal principio della capacità contributiva stabilito dall'articolo 53 della Costituzione ecco in questo periodo si è assistito a pronunce di vario tipo che certamente non hanno favorito l'applicazione della certezza del diritto con la disposizione il nuovo articolo 10 bis dello statuto del contribuente che entra in vigore oggi si passa ad una nuova fase ora la domanda che la domanda alla quale io vorrei rispondere con il mio intervento è grazie a questa disposizione le cose cambiano in meglio oppure finché cambino in meglio occorre compiere ancora alcuni passi vediamo ecco secondo l'elaborazione giurisprudenziale a cui facevo riferimento se aveva illusione barra abuso del diritto i termini sono più o meno sinonimi si ritiene che abuso del diritto sia il genere e l'illusione sia la specie sul piano pratico non è che cambi granché ma si riteneva che vi fosse abuso del diritto quando il contribuente realizza un risparmio fiscale derivante dal compimento di atti non fisiologici cioè da atti che non è normale compiere se non per raggiungere quel risparmio fiscale e sempre che il compimento di questi atti non fisiologici non trovi una propria giustificazione in ragioni di natura extrafiscale le cosiddette valide ragioni economiche come cambiano le cose ecco il nuovo articolo 10bis prevede alcuni elementi costitutivi che sono questi innanzitutto l'atto può essere considerato abusivo il comportamento l'atto i fatti anche più di uno tra loro collegati possono essere considerati abusivi se vi è assenza di sostanza economica e quindi questo un elemento costitutivo che ha natura oggettiva e la norma specifica poi quando si può ritenere che gli atti compiuti siano privi di sostanza economica e cioè quando questi atti sono inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali se tu fai un'operazione l'unico vantaggio meglio l'unico effetto che ottieni o un effetto ampiamente prevalente è di natura fiscale sul piano economico non si generano effetti apprezzabili ecco questo è un punto fondamentale perché nella previgente norma una previsione un requisito di questo genere non era previsto sono indici dell'assenza di sostanza economica la non coerenza delle singole operazioni e la non conformità degli strumenti giuridici rispetto agli obiettivi che tradotto significa vengono utilizzati strumenti giuridici non fisiologici non normali per raggiungere l'effetto economico che si prefigge chi compie l'operazione cioè in sostanza questi due elementi costitutivi sono quelli che ricorrono quando rispondiamo a queste parole quali effetti ha prodotto l'operazione sono solo fiscali o anti economici gli strumenti giuridici utilizzati sono fisiologici normali oppure non coerenti con l'obiettivo che ci si prefigge naturalmente questi elementi costitutivi non sono di per sé sufficienti perché per esserci abuso bisogna poi che ci sia anche il realizzo di un risparmio d'imposta perché se io compio degli atti non fisiologici privi di effetti economici significativi però poi non ho alcun beneficio fiscale è ovvio che dal punto di vista tributario nessuna operazione elusiva viene compiuta è necessario che vengano realizzati dei vantaggi fiscali in debiti e sono in debiti quando contrastano con le finalità di specifiche norme o con i principi dell'ordinamento tributario i benefici fiscali possono essere anche non immediati non è necessario che si realizzino subito ma possono dare beneficio anche dopo alcuni anni ai fini della loro rilevanza il vantaggio fiscale deve però essere essenziale cioè bisogna che l'operazione sia stata posta in essere al fine di raggiungere quel vantaggio fiscale i cui effetti devono essere quindi prevalenti rispetto ad altri vi è poi un esimente anche se gli atti compiuti sono privi di sostanza economica anche se gli atti producono vantaggi fiscali in debiti essenziali non si ha abuso se tali atti sono stati posti in essere al fine o meglio in base di ragioni extrafiscali non marginali quindi in base alla volontà di raggiungere degli effetti generalmente economici ma la norma non richiede espressamente che siano economici di natura extrafiscale non devono essere marginali quindi se c'è una ragione ma questa è sproporzionata rispetto agli effetti prodotti dall'operazione sul piano fiscale il fatto che vi sia una finalità extrafiscale non è di per sé sufficiente a rendere applicabile l'esimente prevista dalla norma le ragioni extrafiscali possono essere di natura economica organizzativa gestionale e anche prospettici i benefici si possono come quelli fiscali di cui dicevamo poco fa si possono realizzare anche nel medio lungo periodo rimane un elemento apprezzabile viene poi introdotto nella nuova norma io credo che questo sia un principio veramente importante il principio della libertà di scelta allora abbiamo detto si ha abuso quando vi è assenza di sostanza economica quando vengono realizzati dei vantaggi fiscali che attenzione devono essere indebiti perché se ci sono dei vantaggi fiscali ma questi sono conformi alla normativa allora non si non si configura l'abuso perché sono benefici fiscali voluti ammessi dal legislatore assenza di valide ragioni economiche vantaggi fiscali indebiti ci può essere resimente ma al di là dell'esimente se quei vantaggi fiscali sono l'effetto di una libera scelta del contribuente tra diverse opzioni previste dalla legge consentite dalla legge allora in virtù dell'applicazione di questo principio della libera scelta non c'è comunque abuso quindi se per raggiungere un determinato risultato economico si possono compiere operazioni diverse il fatto che quel risultato sia raggiunto attraverso il compimento dell'operazione C meno onerosa fiscalmente dell'operazione A e di quella B non è sufficiente per far ritenere che vi sia abuso perché quando la legge consente più opzioni consente di percorrere strade diverse perseguire quella fiscalmente meno onerosa costituisce un diritto del contribuente e non è contrario all'ordinamento allora in questa tabella io ho un po' sintetizzato tutto quello che ho detto perché leggiamola così se c'è sostanza economica è evidente che non c'è mai l'abuso se non c'è vantaggio fiscale è evidente che non c'è mai l'abuso se ci sono delle valide ragioni extrafiscali non marginali non c'è mai l'abuso quando è che si pone il problema il problema è quando guardiamo le ultime due colonne quando non c'è sostanza economica c'è il vantaggio fiscale non ci sono valide ragioni extrafiscali e sulla base di questi tre fattori no sostanza economica no vantaggio fiscale in debito non ci sono non c'è lesimente delle ragioni extrafiscali dovremmo arrivare alla conclusione che vi è abuso ma se il vantaggio fiscale deriva da una libera scelta tra più opzioni consentite dalla legge non c'è comunque abuso quindi l'abuso alla fine c'è soltanto quando in assenza di sostanza economica in presenza di un vantaggio fiscale in assenza di valide ragioni economica e in assenza dell'applicazione del principio di libertà di scelta tra diverse opzioni è evidente che l'operazione è stata compiuta solo per conseguire un risparmio fiscale disapprovato dall'ordinamento tributario e in quanto tale in debito allora la norma che cosa fa secondo me delimita certamente meglio che quella precedente il perimetro dell'abuso del diritto in tema materia fiscale delinea un perimetro che l'elaborazione giurisprudenziale degli ultimi sette anni ha invece come dire costruito in maniera non tanto ordinata quindi è un perimetro non chiaro in molte sentenze operazioni sono state ritenute abusive semplicemente perché attuate in assenza di valide ragioni economiche non c'è dubbio che se un'operazione viene compiuta senza valide ragioni economiche merita di essere considerata sospetta e quindi approfondita però per potersi avere abuso del diritto anche precedentemente all'introduzione di questa norma doveva a mio avviso essere necessario individuare un uso di istituti giuridici di strumenti giuridici di atti contratti non fisiologico un uso distorto che rivela la strumentalità di quell'operazione rispetto al raggiungimento di un vantaggio fiscale che deve poi risultare in debito quindi questa nuova norma va salutata con favore certamente sia perché delimita meglio il perimetro rispetto alla precedente norma ma soprattutto perché lo delimita meglio e lo restringe ma non il giudizio positivo non deve dal fatto che lo restringe lo restringe in applicazione dei principi dell'ordinamento rispetto a quanto aveva fatto l'elaborazione giurisprudenziale rimangono tuttavia alcuni elementi di incertezza perché perché per valutare l'assenza di valide ragioni economiche bisogna domandarsi se gli atti compiuti producono effetti economici significativi quindi abbiamo l'aggettivo significativi che deve essere oggetto di valutazione il vantaggio fiscale deve essere in debito quindi bisogna individuare quando è in debito perché contrasta con la razza di specifiche norme e con i principi dell'ordinamento tributario e bisogna stabilire quando è essenziale poi le ragioni strafiscali devono essere valide e devono essere non marginali quindi bilanciate rispetto alla significatività degli effetti economici e all'assenzialità del vantaggio in debito vi è poi da stabilire quando il comportamento del contribuente è espressione della libertà di scelta tra più opzioni consentite dall'ordinamento e quando invece il contribuente aveva operato al di fuori di un corretto perimetro all'interno del quale sussistono più possibilità per pervenire al medesimo risultato economico quindi la norma è certamente positiva ma per la sua efficace e corretta applicazione nella direzione della certezza del diritto io vorrei incontrare il direttore finanziario di quella multinazionale inglese e dirgli guardi che oggi sono cambiate le cose le posso dire che lei non corre più rischio A rischio B rischio C e allora vuol dire che avremmo fatto dei passi avanti per fare realmente questi passi in avanti noi dobbiamo ora fare uno sforzo lo dobbiamo fare noi come consulenti delle imprese lo dobbiamo fare noi come difensori delle imprese in sede contenziosa lo devono fare i rappresentanti dell'amministrazione finanziaria perché la valutazione di tutti questi elementi richiede un notevole equilibrio da parte del contribuente da un lato e da parte dei rappresentanti dell'amministrazione finanziaria dall'altro io conosco da molti anni la dottoressa Orlandi direttore dell'agenzia come da molti anni qualcuno ancora di più conosco il comandante generale della guardia di finanza ecco se io penso a loro sono certo che l'applicazione di queste nuove norme avverrà con l'equilibrio necessario per far sì che nel nostro paese ci sia in tema fiscale certezza del diritto l'auspicio è che da parte anche di tutti gli altri operatori sia da un lato che dall'altro si possa operare con il medesimo equilibrio con cui sono certo operano i vertici sia dell'agenzia delle entrate sia dell'amministrazione finanziaria prima di concludere due minuti e concludo mi volevo porre questa domanda ma applicando la nuova norma a una serie di casi che negli ultimi anni sono stati considerati elusivi che cosa cambia uno dei temi è stato quello della fusione in luogo della liquidazione a me è capitato in un caso di difendere una società alla quale era stato addebitato un'operazione elusiva perché per estinguere una società l'aveva fusa in un'altra società del gruppo e lì la contestazione era l'istituto previsto dalla legge per estinguere una società era liquidazione e non la fusione se avessi utilizzato la liquidazione avresti realizzato delle plusvalenze tassabili con la fusione che è un istituto fiscalmente neutro non c'è stata nessuna tassazione quindi tu hai eluso la norma che prevede la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla liquidazione in un altro caso mi è stato detto tu per estinguere una società l'hai liquidata attraverso la liquidazione hai realizzato delle minusvalenze che hai dedotto avresti potuto utilizzare la fusione per estinguere quella società la fusione neutrale e non avresti in questa maniera dedotto quelle minusvalenze riducendo il tuo reddito tassabile sulla base della nuova disciplina direi che utilizzare la fusione e la liquidazione rientra nella libertà di scelta delle operazioni che possono essere attuate per realizzare l'estinzione di quella società e quindi problemi di questo tipo non dovremmo averne più ora l'esempio della fusione anziché la liquidazione e viceversa è tra l'altro citato nella relazione accompagnatoria del provvedimento normativo sull'abuso del diritto l'operazione di leverage buyout direi che è una tecnica di acquisizione con finanziamento di un'azienda mi sembra che si debba escludere che possa essere considerata abusiva gli effetti economici sono rilevanti in questo caso ecco la scissione proporzionale molte scissioni sono state considerate illusive e molte lo sono anche state sulla base della nuova norma una scissione produce degli effetti economici significativi o no certamente una scissione produce degli effetti economici significativi allora sulla base della norma noi dovremmo ritenere che tutte le operazioni di scissione in quanto producano quegli effetti non possano essere considerate abusive quindi probabilmente a proposito delle scissioni si ribalta la situazione nel senso che fino ad oggi la scissione viveva come dire in odore di abuso per cui o tu dimostravi con grande efficacia l'esistenza di valide ragioni economiche che giustificavano l'operazione o se no era molto facile vedersi contestare l'abusività dell'operazione oggi probabilmente la situazione si ribalta nel senso che in quanto la scissione produca degli effetti economici non dovrebbe essere elusiva quindi vi sarà semmai abuso quando la scissione per un qualche particolare caso non produce un effetto economici significativi ad esempio se la società A si scinde nella società B e poi le azioni della società B vengono vendute ad un soggetto terzo questa fino ad oggi in genere è stata considerata un'operazione elusiva perché si dice la società avrebbe potuto vendere direttamente al terzo il ramo d'azienda realizzando delle plusvalenze che invece non vengono realizzate se si fa la scissione e se poi vengono vendute le partecipazioni della beneficiaria usufruendo della participation exemption però direi che un'operazione di questo tipo non è tanto diversa dal conferimento che una società esegue a favore di un'altra società cedendo poi le partecipazioni di quest'ultima ad un soggetto terzo usufruendo anche in questo caso della participation exemption operazione questa in relazione alla quale l'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi stabilisce espressamente che non si tratta di operazione elusiva ai fini delle imposte sui redditi le due operazioni non sono tanto diverse entrambe producono significativi effetti sul piano economico entrambe non creano salti d'imposta perché i valori fiscalmente riconosciuti dei beni posseduti dalla società beneficiaria nel caso della scissione e dalla conferitaria nel caso del conferimento continuano ad essere i medesimi e prima o poi i maggiori valori economici esistenti si tradurranno in plusvalenze tassabili quindi credo che qualche passo in avanti verso la certezza si faccia anche con riferimento alle operazioni di scissione ecco qualche caso è stata considerata elusiva la trasformazione tu hai una società di persone i soci pagano il 43% di imposte sui redditi la trasformi in una società di capitali affinché questa sia soggetta poi ad una tassazione del 31,4% circa anche in questo caso direi che la scelta della forma giuridica rientri in una possibilità di scelta tra diverse opzioni e quindi come vedete da questi esempi si comprende che possiamo guardare al futuro con maggior fiducia rispetto al passato e soprattutto confidando in una valutazione equilibrata da parte di contribuenti ed amministrazione al tempo stesso molte grazie